Io abito di là, io abito là in fondo. Io a scuola ci vado in macchina. Vado in macchina sempre perché sennò arrivo in ritardo. Faccio tre o quattro curve. Qua il palco giochi, qua la gelateria. Non ci vorrà tanto tempo e devo attraversare l'incrocio. E arriviamo a scuola! Che faccia vuoi dare alla tua scuola? Un piccolo coniglio batuffoloso. Un gatto. Di un piccolo cane. Un pagliaccio. Un vampiro. Un naso peloso. Le narici che sono le porte. Di leno. Di ghiaccio. Tantissimi colori, tipo come l'arco ballena. Tipo di cosa a testa in giù. Una strega pazza. Un grande nano. Tigre. Leone. Io che gioco a calcio. Piena di dolci. E la vorrei dipingere! Di tutti i colori. Un piccolo coniglio. Un maillaccio. Una porta un po' speciale. Quando la apri cosa entra? Faccio entrare i miei desideri. Dei desideri belli. Tutte le mie passioni. La musica. Quello che mi desideri. Una specie dell'universo del divertimento. Fare entrare le piscine quando fa caldo. Un barrile dove c'è dentro un tesoro. Troviamo delle fate. Un volet, passando di gelato. Una camera di scuola. Campolini. Un giardino segreto. Altri pianeti e le stesse. Un alcolaleno. Tu apri questa porta e dentro ci trovi... Un legalo. In che orari e in che giorni l'apriresti questa porta? Apri dalle 5 di pomeriggio a mezzanotte. E dalle 3 alle 5 di mattina. Alle 9 e mezza di sera. Di domenica. Di domenica. 24 ore su 24. Alle 4 di pomeriggio fino alle 3 di notte. Sabato e domenica. Poi alle 12. A mezzanotte. Lunedì e martedì. Di giovedì. No, di giovedì. Di giovedì. Sempre. Tu nella tua scuola cosa desideri avere? Io nella mia scuola vorrei... Io desidero avere a scuola un solo giochi. Un solo giochi. Gli apparecchi elettronici. La calcolatrice. Anche un tablet. La Playstation 4 con FIFA 17. Televisioni. Robottine. Computer, telefoni. Giocare ai videogiochi tutto il giorno. Sentire un po' di musica, poi guardare dei video su di tu. Un posto per prendere il gelato. E la pizza. Voglio mangiare in pranzo un po' con le patate. La mia classe la vorrei trasformare in una ludoteca. Giochi scatolati. Tanti giocattoli. Vorrei giocare a calcio. Un po' a tennis. A pallavolo. Giocare a minigolf tutto il tempo. Calcio e basket. Scherma. Il campo da calcio dentro l'auto. Caraccio. Perché questa è una scuola di danza e di canto. Io desidererei che la scuola fosse sempre una festa e non finisse mai. Invitare tanti amici a fare feste. Feste. Party. Parlo di giallo a party. Facciamo un pizza party. Desidererei dei lavoratori più creativi. Un cinema. Studio e poi guardo i film. Io guardo i film sul computer. Quando i pop-corn. Il patinare sul ghiaccio. Una piscina e un teatro. Una pista da vallo. I scivoli. Mini zoo per studiare i giornali. Usare un telescopio per vedere le stelle. Aha! Fare delle cose misteriose. Creare le pozioni. Voglio avere una regola in me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.